Sarà un vero e proprio maxiprocesso. 18 gli imputati rinviati a giudizio per l'associazione per delinquere e emissione di fatture false, tutti invece prosciolti dall'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Si è conclusa così l'udienza preliminare per l'operazione Argento Vivo che vedeva sul banco degli imputati 32 imprenditori orafi del territorio aretino. Nove delle persone coinvolte hanno deciso di percorrere la strada del rito abbreviato una richiesta che è stata accolta e l'udienza si terrà il prossimo 9 maggio. Altri cinque invece hanno patteggiato poco più di un anno per l'associazione a delinquere mentre non hanno potuto farlo per i reati fiscali. La maggioranza degli imputati ha comunque deciso di procedere con il rito ordinario l'udienza di fronte al collegio è stata fissata per il prossimo 11 giugno. A portare alla luce la maxievasione fiscale nel 2015 fu la guardia di finanza. Le indagini delle fiamme gialle infatti permisero di scoprire una gigantesca frode fiscale nel settore del commercio di metalli preziosi principalmente Argento ma anche Platino e Palladio un raggiro dal valore di circa 3 milioni e 200 mila euro. Due le organizzazioni criminali che secondo i finanzieri operavano guidate da altrettanti imprenditori orafiaretini secondo l'accusa venivano acquistati ingenti quantitativi di metalli senza però corrispondere mai l'iva ai fornitori ma non solo quel metallo veniva infatti poi trasformato in semilavorato con l'obiettivo di assoggettare a diva le successive vendite attraverso società cartiere. L'argento infine veniva venduto al cliente finale il quale dopo averlo fatto nuovamente affinare lo ricollocava sul mercato. Tra gli imputati anche Plinio Pastorelli ex consigliere delegato di Oro Italia Trading il gigante del settore controllato all'epoca da Banca Etruria e poi sciolto quando è subentrata Ubi.